Buongiorno a dire che abbiamo avuto un sviluppo e l'ultimo anno in Buongiorno ha avuto un sviluppo economico abbastanza rapido. Lo che sta passando vuol dire che un sviluppo di 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 sviluppo. E' quello che vuol dire che nel momento che c'è una disbalanza. In queste parti, l'ultimo anno economico vuol dire che non c'è tanta attività economica che vuol dire. Mi è messo in impresario, mi è messo un po' più difficile per entrare. Posso semplicemente sviluppo di 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 sviluppo. Allora, al final di conto, tutto questo è una balanza. Mi ricordo che è importante per noi come Buongiorno da un mire e la balanza. Non si miro come la Camera di Commercio di Hopi e l'actività economica. Non si miro come il nostro registro di compagnia, il nostro registro. Il nostro registro è cresce enormemente. Quindi, tutto questo è un mire un crescimento del registro. Lo che per noi sta bene, abbiamo più interesse di Buongiorno. Lo che anche noi, come la Camera di Commercio, è una nostra possibilità di avere più costi per l'empresario. Noi stiamo diventando un centro, un one-stop-shop per l'empresario. Quindi, ora ho cominciato con il concetto di Hondenheimers'Huis. Il nostro anno è l'encargo del Ministero di Economia e del Climato di Hollanda. Questo è un concetto che non conoscevamo. Non bisogna sviluppare nel tempo e non bisogna sviluppare. Questo è il clima di inversione. Questo è un sistema attrativo per l'empresario di Sandia. È un buon 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 buon. per il tratto più essere un periodo buon 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 buonبي. e il drempello di una base di buono, quindi questo è davvero un buono e anche un po' di integrazione di un paese di Olanda e quindi abbiamo fatto un po' di integrazione di un certo investimento e di sicurezza che un investimento sia sicuro e buono organizzati in un senso.